buona domenica ben ritrovati è il momento di una puntata molto profonda insieme a marco massignano ciao marco ciao fabio ciao a tutti gli ascoltatori allora questa volta dopo che ricapitoliamo un po quello che è accaduto tu ci hai fatto un bel regalo perché almeno a me mi hai fatto scoprire facendo quelle tre le missioni su another self questa serie turca in cui per la prima volta almeno in questa maniera si è parlato approfonditamente al di là della storia delle storie che si intrecciano in questa serie delle costellazioni che è chiaramente le attività principali che svolgi tu marco e ci hai parlato di questa serie per farla breve sono un gruppo di amiche con delle vicissitudini molto particolari con dei traumi con dei problemi da risolvere che vanno da una persona molto affascinante che nel film si chiama Zaman che fa queste costellazioni in quel caso di gruppo e allora io partirei intanto l'invito chiaramente perché non abbiamo mai spoilerato e non lo faremo neanche oggi ma la puntata di oggi è proprio per capire bene queste costellazioni come funzionano perché credo che siano veramente uno strumento molto potente per poter risolvere traumi problematiche varie che ci applicano di cui siamo consapevoli o di cui non siamo consapevoli allora la prima domanda che ti voglio fare dopo aver visto questa serie tra l'altro fatta molto bene cioè è anche di alta qualità e chissà se poi ci sarà una non avevamo trovato notizie io non ne ho trovate di un ulteriore seguito una seconda stagione come viene chiamata staremo a vedere io ho sempre ecco identificato le costellazioni familiari come un lavoro individuale cioè che si fa appunto con la persona il ricercatore e il protagonista anche in base all'esperienza che poi magari dopo racconterò in questa serie invece si vede zamann che fa incontri di gruppo la persona rimane seduta e viene interpretata da altri componenti che non la conoscono neanche e che rappresentano un po quello che sarebbe il suo trascorso il suo passato ecco le costellazioni che fai tu sono fatte in questa maniera sì io faccio sia sessioni di gruppo che sessioni individuali bisogna tenere conto che le costellazioni familiari così con questa denominazione e grosso modo nella forma in cui iniziale da in cui si sono sviluppate partono e sono una terapia spirituale di gruppo quindi danno il meglio di sé danno offrono le maggiori opportunità nelle sessioni di gruppo in cui come hai giustamente detto fabio vi è un facilitatore un costellatore un conduttore del gruppo una persona che porta un problema un tema su cui desidera lavorare un obiettivo da raggiungere che può essere relativo alle relazioni quindi coi genitori col partner i figli all'interno della famiglia oppure può anche essere una tematica collegata al lavoro al denaro alla professione alla crescita spirituale o al andare a scoprire quali sono le cause profonde di un disturbo di un sintomo o di una malattia sempre parlando da un punto di vista spirituale ed energetico quindi è in gruppo lavorando in gruppo che offrono al massimo queste questo tipo di lavoro quindi la persona che via via alza la mano e si siede di fianco al conduttore per portare un tema o un problema la chiamiamo di solito il protagonista e poi con l'ausilio degli altri persone che sono presenti in sala e che non si conoscono almeno inizialmente tra di loro mettiamo in scena delle rappresentazioni quindi costellazioni rappresentazioni è un po' un sinonimo rappresentazioni sistemiche quindi viene messo in scena magari la famiglia o parti della famiglia del protagonista e queste persone che vengono scelte dal protagonista per rappresentare via via il proprio padre la propria madre se stesso zio o può anche essere un concetto astratto o tante altre possibilità sono infinite queste persone vengono dette rappresentanti e quindi si palesa in scena una appunto una costellazione una rappresentazione come fosse una rappresentazione teatrale senza un copione per cui poi il conduttore facilita aiuta i rappresentanti in scena e il protagonista a entrare dentro le proprie emozioni a ascoltare anche quelli che vengono chiamati movimenti dell'anima cioè delle forze che a quel punto spostano magari i rappresentanti nella scena o fanno sì che loro dicano qualcosa e anche le memorie che emergono da quel momento in avanti a seconda di quello che è il tema che è stato portato a seconda del destino del rappresentante la protagonista e a seconda veramente di un'infinità di fattori differenti andiamo a analizzare anche altri aspetti che si vedono che cosa si crea è come effettivamente si vede nella serie cioè si crea una sorta di connessione di connettività nel cerchio quindi traumi vissuti dalla persona che dicevamo prima nella serie la persona rimane seduta quindi i suoi problemi vengono emergono appunto dagli altri partecipanti quindi in questo cerchio i traumi vissuti dalla persona vengono tirati fuori dalle altre persone che partecipano al gruppo come fanno quindi persone che non la che non conoscono la protagonista della costellazione a intercettare il suo trauma e quindi poi a rappresentarlo quali flussi si creano succede sempre come si vede nella serie o accade magari non tutte le volte tu hai creato poi hai scritto anche un libro sulle costellazioni rituali in cosa consistono e in cosa si differenziano dalle costellazioni familiari partirei da quest'ultima domanda relativa alle costellazioni rituali per cui le costellazioni familiari sono un lavoro una terapia spirituale di gruppo che può anche essere ripeto esplicitata e espressa in sessione individuale ma resta un lavoro di gruppo e nelle costellazioni familiari andiamo a lavorare con i sistemi familiari quindi la famiglia di origine la famiglia attuale gli antenati al fine di sanare dei conflitti o dei conti in sospeso delle situazioni non risolte del passato che vanno a influire sul nostro presente sulle nostre percezioni sulla nostri sentimenti sul nostro destino in maniera inconsapevole quindi andiamo a fare emergere a coscienza delle dinamiche nascoste inconsce così che il protagonista veda ma anche i suoi rappresentanti in scena vedano queste dinamiche che non diventano quel punto coscienti così che la coscienza possa verificare quello che c'è rendersi conto maggiormente della realtà e di come quello che le scelte sono le scelte che fa le cose che vede i pensieri che pensa e le emozioni che prova sono in realtà condizionati da eventi del passato e quindi nel momento in cui io vedo che c'è un condizionamento in questo pensiero che pensavo essere mio ma riconosco che invece è appartiene a mio padre appartiene a mio nonno per fare un esempio allora sono più libero da questo condizionamento posso scegliere in maniera più libera più più consapevole appunto quali pensieri a quelli pensieri dare nutrimento quali pensieri alimentare e quali invece sono dannosi per la mia vita e ne è meglio lasciare andare lo stesso vale per le scelte lo stesso vale per le emozioni e via così quindi questi condizionamenti del passato questo prendersi su di sé farsi carico di una parte del destino dei nostri antenati a partire dai genitori in poi si chiama il rettimento e quindi vado a riprendere il mio posto all'interno della famiglia e invece di stare in un posto che non è il mio sono in realtà diciamo cose che è molto più semplice esperire direttamente in un'esperienza che spiegare così a parole soprattutto se non si ha esperienza appunto ripeto di questo tipo di lavoro di questo un po pochissime parole c'è anche molto altro è il lavoro delle costellazioni familiari così come è stato originato alla fine del secolo scorso agli inizi di questo secolo in particolare da un terapeuta tedesco che è scomparso qualche anno fa che si chiamava bert hellinger e poi è stato sviluppato da molti altri le costellazioni rituali sono invece lo sviluppo di questo lavoro che insieme a mia moglie Elena Dell'Orto ho originato da una ventina di anni a questa parte e che coniugano il lavoro delle costellazioni familiari con il lavoro di risoluzione dei traumi a base corporea che viene soprattutto dagli stati uniti e dal mondo delle neuroscienze in cui andiamo a lavorare col sistema nervoso e a risolvere sempre in modo energetico in modo spirituale ma anche molto concreto ripeto attraverso il sistema nervoso andiamo a risolvere traumi che nelle costellazioni familiari spesso non è possibile risolvere e che sono ad esempio abusi sessuali incidenti stradali operazioni chirurgiche la nascita e il parto che sono appunto spesso dei traumi molto molto forti e via così quindi invece il terzo apporto la terza corrente insomma che informa che costituisce le costellazioni rituali è lo sciamanismo in particolare ciò che io e mia moglie abbiamo imparato con i nativi americani e con altri popoli nel corso del nostra vita attraverso la spiritualità attraverso la partecipazione ai riti e le cerimonie in particolare in nord america cerimonie come la danza del sole lo abbiamo visto nelle puntate precedenti dedicate alla spiritualità dei nativi americani in cui ho illustrato un po delle alcune delle mie esperienze quindi questi tre filoni le costellazioni familiari è la risoluzione del trauma base corporea e lo sciamanismo la spiritualità dei nativi vanno a comporre quelle che abbiamo chiamato costellazioni rituali che quindi hanno uno spettro di intervento molto più ampio rispetto invece alle sole costellazioni familiari tornando alle costellazioni familiari mi chiedi fabio appunto se succede sempre sì e come come possibile che i rappresentanti in scena intercettino i traumi del protagonista in realtà non è che li intercettano dobbiamo tenere conto che tutti noi siamo fatti di memorie memorie del passato tutti noi senza esclusione alcuna perché ovviamente entriamo tutti noi in questa vita da a partire da un ovulo uno spermatozoo da un padre da una madre che ci trasmettono la vita trasmettono la vita al nostro corpo fisico in realtà e insieme alla trasmissione della della vita e la creazione di questo corpo fisico in cui poi la nostra anima va ad abitare per fare esperienza di questa incarnazione umana trasmettono tutta una serie di memorie quindi il modo in cui per esempio veniamo concepiti i pensieri che le persone che i nostri genitori avevano al momento del concepimento e durante la nostra permanenza nell'utero materno il modo in cui nasciamo possiamo nascere in ospedale in casa con una nascita traumatica oppure no con il forcipe con la ventosa con un parto cesareo oppure permanere in per qualche tempo successivamente la nascita in un'incubatrice tutti questi fattori ad esempio per un piccolo esempio hanno un effetto molto importante sulla poi le scelte che noi facciamo da adulti sulla nostra vita sul nostro atteggiamento rispetto alla vita rispetto agli altri a noi stessi al lavoro al denaro eccetera eccetera quindi tutti noi siamo fatti di memoria ma non soltanto le memorie dei nostri genitori anche quelle dei loro genitori dei genitori dei loro e degli altri componenti del nostro clan di appartenenza quindi i zii le zia i prozii le prozie i cugini eccetera magari in misura minore sicuramente ma tutte queste persone che hanno concorso in qualche modo a trasmetterci la vita se pensiamo se andiamo indietro nel passato vediamo i nostri genitori sono due i nonni sono quattro e poi abbiamo otto bisnonni 16 trisnonni 32 antenati e via così in realtà sono moltissime persone diventano poi ben presto centinaia migliaia milioni di persone se arriviamo anche solo a 14 generazioni dietro di noi quella singola generazione è composta da più di un milione di persone quindi teniamo conto che anche una se anche una soltanto di quelle donne o di quegli uomini non fosse esistito o esistita noi non saremmo vivi non avremmo non saremmo qui nel nostro corpo e quindi è un questo è un fatto non è un'opinione per cui i fatti che sono accaduti ai nostri antenati specialmente quelli più vicini a noi i problemi che non hanno risolto i fatti traumatici che hanno magari lasciato e emozioni inespresse hanno lasciato grandi intensità emotive esclusioni di persone fatti tragici o anche infatti meno tragici ma intensi si tramandano nei discendenti questo è scritto non soltanto nei testi sacri come nella bibbia ad esempio in cui si dice le colpe dei padri ricadranno sui figli ed è assolutamente una verità ma è stato dimostrato anche più volte in anni recenti dalla scienza che ha dimostrato appunto che ad esempio sono stati fatti degli studi in israele sui discendenti di persone che hanno vissuto l'olocausto durante la seconda guerra mondiale quindi nipoti di persone che sono state internate nei campi di concentramento e si è dimostrato scientificamente ho pubblicato anche alcuni link di questi studi nel mio sito ogni tanto lo faccio anche nel mio canale telegram e le scrivo anche nel libro costellazioni rituali discendenti di queste persone hanno un dna con delle certe caratteristiche che sono differenti dalle altre persone che invece discendono da persone che non sono state nei campi di concentramento quindi non è soltanto però attraverso il dna c'è ma la scienza moderna attraverso lo studio del dna ha dimostrato che i traumi collettivi i traumi personali del passato hanno un impatto sul dna e si trasmettono nella discendenza ma se guardiamo le cose da un punto di vista spirituale ed energetico in realtà la cosa è molto più profonda è molto più complessa perché dobbiamo tenere presente i concetti non concetti ma realtà come l'anima individuale e l'anima collettiva di cui magari andiamo a spiegare qualcosa di più tra poco o in un'altra puntata passiamo adesso ai traumi i tipi di traumi secondo te tutti noi abbiamo dei traumi razionali che derivano dai nostri antenati dei nostri avi dalle generazioni passate spesso parliamo in tante trasmissioni abbiamo vissuto determinate esperienze in una vita precedente cioè diciamo magari questa esperienza questo trauma ci deriva da vite passate quindi dalla reincarnazione in questo caso invece il trauma quello che si vede nella serie è nelle non nelle nostre vite passate ma nelle vite passate dei nostri avi quindi è qualcosa secondo te che si tramanda col dna tutti noi abbiamo questi traumi siamo influenzati dal passato che poi uno dei messaggi corrente della serie che è quella di adà la protagonista principale ciò che viviamo deriva dal passato e quindi dovremmo tutti riconciliarci con le nostre origini qualunque se siano allora sono tante domande l'argomento è estremamente vasto e soprattutto vorrei dire anche un po rispondendo ancora alla domanda precedente come fanno i rappresentanti in scena a intercettare diciamo questi tra in realtà non non intercettano ma entrano in risonanza perché dobbiamo dire che prima di tutto come è molto come dire anche ascoltare quello che sto dicendo leggere dei libri sull'argomento non è mai come fare esperienza di queste cose di queste delle costellazioni familiari eccetera perché nella siamo comunque tutti condizionati a pensare a essere identificati con il nostro pensiero con i nostri processi mentali ci hanno insegnato a fare così da scuola ci hanno insegnato i nostri genitori e anche e soprattutto in conseguenza dei traumi che abbiamo subito nell'età infantile e adolescenza ci siamo molti di noi identificati nel nostro pensiero nella mente nella testa e ci siamo ritirati dal corpo cosa invece che invece è molto diversa per esempio per i suoi popoli tribali che vivono ancora in uno stato naturale come ad esempio gli indios dell'amazzonia o gli aborigini australiani tradizionalisti che vivono molto più nel corpo o anche i bambini se vediamo i bambini vivono molto più nel corpo in maniera totale e spontanea di quanto invece lo facciamo noi da adulti che invece siamo identificati col pensiero compulsivo non riusciamo a smettere di pensare e quindi ci è molto difficile anche soltanto a meditare insomma però questo ci porterebbe da un'altra parte quindi dicevi prima come fanno i rappresentanti in scena a entrare in contatto con i traumi del passato del protagonista beh questo avviene per quella che si chiama legge di risonanza che ho già credo spiegato in parte in una puntata precedente facciamo un esempio se ci sono due diapason che mettiamo su un tavolo uno è stato realizzato per vibrare a 440 hertz e un altro a 432 hertz sono stati fabbricati così quindi noi percuotiamo il primo diapason che comincia a vibrare e l'altro diapason resta fermo perché risuona un'altra frequenza le frequenze che si trasmettono nell'aria sono quelle di 440 hertz l'altro è stato fabbricato per 432 non vibra mentre invece se io metto due diapason che sono stati fabbricati alla medesima frequenza quindi per vibrare per esempio a 440 hertz percuoto il primo diapason anche l'altro senza che io lo abbia toccato comincerà a vibrare proprio perché si propagano nell'aria delle onde sonore di quella frequenza sappiamo dalla fisica che tutto è frequenza, tutto è vibrazione nell'universo e quindi non soltanto i diapason, quindi due oggetti fisici sono vibrazione, sono energia, sono frequenza ma anche i nostri corpi e quindi anche le nostre emozioni hanno una determinata frequenza così come i pensieri, quindi i pensieri di rabbia, odio e vergogna sono diversi dalla vibrazione che ha l'amore, la vibrazione che ha la gioia che ha un'altra vibrazione ancora rispetto alla paura e via così con mille sfaccettature differenti così come le emozioni ogni emozione ha una determinata frequenza tanto è vero che se entro in una stanza in cui magari chi ha un minimo di sensibilità entra in una sala che magari è stata a teatro di fatti feroci o efferati in cui una persona si è suicidata o in un ex mattatoio per dire o in un ex cimitero chi ha un minimo di sensibilità avverte della pesantezza nell'aria avverte della tristezza avverte insomma qualcosa di rigido per esempio mentre invece se accediamo a un luogo magari sacro da secoli per esempio entriamo in una chiesa antica o in un tempio in cui le persone hanno pregato per migliaia di anni per esempio chi di noi conosce la sacra di San Michele all'entrata della Val di Susa in provincia di Torino percorrere quegli scalini e arrivare in cima e poi entrare nella chiesa principale è un'esperienza per molti di grande elevazione di grande spiritualità di grande benessere proprio perché quella chiesa si trova in cima a una montagna che era già sacra prima del cristianesimo e in cui nei secoli e nei secoli migliaia e migliaia di persone sono andate a pregare sono andate a elevarsi sono andate a nutrire pensieri positivi quindi allo stesso modo le costellazioni quindi se io metto in scena dei rappresentanti sono come dei diapason che entrano in contatto entrano in risonanza con il protagonista e quindi anche se non conoscono non lo conoscono non conoscono la sua storia non conoscono i suoi genitori non ha detto magari nulla e mettiamo in scena il padre di un protagonista quella persona comincerà ad agire a sentire a dire delle cose che sono in risonanza con il protagonista col padre del protagonista e via così in realtà è un fenomeno estremamente immediato estremamente intuitivo estremamente semplice come tutte le cose potenti ed efficaci già quando eravamo a bambini chi di noi non ha giocato con i suoi coetanei dicendo dai giochiamo facciamo che io ero questo e tu eri quell'altro in realtà i bambini già da sé spontaneamente mettono in scena delle costellazioni nel loro giocare e anche nella cosiddetta magia simpatica in cui io le persone mi mettono in scena dei rappresentanti o non so nei tarocchi in qualsiasi sistema divinatorio in realtà non è altro che una rappresentazione schematica semplificata dell'universo in cui vado a mettere in scena vado a entrare in risonanza con le forze che ci sono in quella determinata situazione per cui le costellazioni le differenze che invece di usare i tarocchi invece di usare degli oggetti si utilizzano delle persone insomma non si utilizzano in maniera così irrispettosa ma con l'ausilio di altri partecipanti al seminario il protagonista può è più facile per il protagonista e per il conduttore fare emergere quelle dinamiche negative che impediscono alla sua vita di dipanarsi di essere felice di avere successo di seguire il proprio destino e quindi vengono risanate questi condizionamenti proprio così che la coscienza li può vedere e può elaborarli può digerirli quindi questo è un po' come fanno dobbiamo tenere presente invece passando alla domanda che mi hai appena fatto che vi sono diversi tipi di memorie quindi nella in another self nella serie di Netflix emergono esclusivamente memorie relative agli antenati quindi che si chiamano memorie ancestrali e quelle di cui parlavamo prima ci sono quindi memorie della mia infanzia della mia adolescenza del mio passato del modo in cui sono nato memorie intrauterine o pre prenatali appunto del periodo che io ho trascorso nella pancia di mamma durante la gestazione la gravidanza e memorie anche collegate a come sono stato concepito e addirittura memorie relative al preconcepimento cioè dove ero prima di atterrare diciamo sulla terra ed entrare in questo corpo fisico e questo sono un tipo di memorie quindi sono memorie individuali mie in questo caso o di ciascuno di noi e poi ci sono memorie ancestrali quindi memorie a partire da quelle di mio padre di mia madre dei miei nonni quattro nonni e quelli dei bisnonni eccetera eccetera dei vari antenati quindi sulla linea di ascendenza cioè coloro che mi hanno trasmesso la vita genitori nonni bisnonni trisnonni e via così indietro e poi anche i loro fratelli e sorelle le altre persone importanti appartenenti al sistema familiare di origine e così via questo tipo di memoria per esempio si vede anche nella serie la partecipazione a conflitti armati a guerre omicidi esclusioni persone che sono state escluse che hanno subito delle ingiustizie oppure antenati miei che hanno perpetrato delle ingiustizie quindi che si sono trasformati in carnefici quindi vittime carnefici nel mio sistema familiare determinano delle memorie cioè determinano magari a volte si fanno dei patti ci sono delle vendette che vogliono essere come nelle faide vengono ad esempio in alcune regioni italiane in particolare per esempio in Sardegna ma anche in Corsica in Sicilia in Calabria in particolare ma anche in altre regioni ovviamente come in altri luoghi del mondo ci sono come dire è più tipico che ci siano questo tipo di faide che si tramandano di generazione in generazione quindi tutto questo ho fatto solo degli esempi questo tipo di memorie sono memorie che chiamiamo ancestrali che sono quel tipo di memorie che emergono nella storia della serie tv dobbiamo anche e qui c'è la differenza del lavoro che faccio con le costellazioni rituali rispetto alle costellazioni familiari dobbiamo tenere anche presente che esistono quelle che sono memorie invece di vite precedenti quindi le memorie che ciascuno di noi come individuo come anima individuale si porta dietro dalle esperienze di vita precedente e quindi il fenomeno della reincarnazione che non è un qualche cosa che io nel mio lavoro mi sono detto beh allora facciamo anche questo oppure ho cercato di imporre una mia credenza una mia convinzione ma si è trattato del fatto che già una quindicina di anni fa e più nel lavoro che faccio emergevano con il lavoro con le persone delle memorie che non erano spiegabili emergevano in scena durante i lavori delle memorie che non erano spiegabili attraverso le memorie ancestrali non erano spiegabili attraverso le memorie dell'infanzia e quindi avendo già lavorato con le memorie dell'infanzia e con le memorie ancestrali dei partecipanti emergevano appunto quest'altro tipo di memorie per esempio molte memorie collegate a traumi collettivi del passato come ad esempio la caccia alle streghe l'inquisizione e altre le pestilenze di secoli fa via di questo passo quindi memorie collettive che da una parte si tramandano nel collettivo attraverso gli antenati e quindi attraverso la linea di discendenza con i nostri genitori e via così e memorie invece che ci portiamo dietro poiché abbiamo vissuto quel tipo di esperienze in un ruolo o nell'altro come anima individuale e quindi il fenomeno della reincarnazione e le tradizioni che hanno questo tipo di insegnamenti questo tipo di conoscenze relative alla reincarnazione mi sono venute incontro e sono state molto utili applicando queste tradizioni in un contesto costellativo in un contesto terapeutico moltissime persone hanno risolto dei problemi anche importanti e sono guariti da cose molto importanti nella vita attuale perché dobbiamo anche ricordarci che facciamo queste cose non per andare a scavare nel passato così perché va di moda o per curiosità o perché non sappiamo bene cosa fare nella vita ma andiamo nel passato esclusivamente per migliorare la vita adesso per servire il presente e per essere felici seguendo il nostro destino in questa vita e non per appunto per curiosità o per altre ragioni insomma e quindi questo l'includere le memorie di vite precedenti non ripeto perché l'ho detto io ma perché queste cose emergono è una delle caratteristiche delle costellazioni rituali lo stesso Bert Hellinger una ventina di anni fa affermava nelle sue conferenze che non lui credeva che non esistesse la reincarnazione e dopo si è ricreduto ha cambiato idea e ha cominciato a includere la reincarnazione nel suo lavoro e le ha chiamate costellazioni familiari spirituali mentre lui faceva questo la stessa cosa la facevamo noi qui in Italia nella nostra scuola è appunto cominciato ad emergere il fatto che esistono le memorie di vita precedente che sono insomma molto molto profonde e che non è per tutti andare ad esplorare cioè queste cose già solo le costellazioni familiari non sono per tutti sono per chi è pronto sono per chi ha cominciato a farsi determinate domande sono per chi ha deciso o vorrebbe essere felice e sta cercando le risposte a quelle domande e quindi è disposto a guardarsi dentro è disposto a prendersi la responsabilità della propria vita perché moltissime persone invece che non sono ancora a quello stadio pensano che sia colpa degli altri pensano che la responsabilità della propria vita delle proprie emozioni dei propri pensieri sia da attribuire ai genitori sia da attribuire al governo sia da attribuire a Dio sia da attribuire all'altra fazione politica mentre invece le tradizioni spirituali e la concretezza delle costellazioni insegnano aiutano a rendersi conto che siamo noi i responsabili della nostra vita che siamo noi a decidere se voler essere felici o no che siamo noi a poter prendere in mano le redi nella vita e quindi cambiare noi stessi allo scopo di anche poi cambiare il mondo perché invece cercare di cambiare il mondo senza cambiare se stessi pare che non funzioni capitolo spinoso genitori che anche questo ritorna completamente nella serie in uno degli episodi c'è una frase che mi ha colpito che tu lo voglia o no comunque rimani indissolubilmente legato ai tuoi genitori qui si apre un capitolo molto complesso conosco anche persone che non hanno vogliono rapporti profondi con i genitori scambi di accuse li accusano di essere stati assenti anaffettivi di esserlo tuttora non c'è la volontà di ricucire io spesso ho detto a qualcuno siccome non lo tanto il genitore non lo fa un passo di avvicinamento anche un semplice gesto d'affetto che potrebbe sciogliere magari anni e anni di muri e niente non c'è questa neanche questo tipo di collaborazione quindi non c'è una volontà comune di ricucire in questi casi o con rapporti conflittuali è comunque importante secondo te coltivarli questi rapporti la loro influenza anche se non lo vogliamo è tremendamente forte sì e comunque dipende da noi dipende sempre e soltanto da noi nel senso che non possiamo esimerci dal tenere presente che i nostri genitori hanno un influsso su di noi come è giusto che sia ci hanno trasmesso i tratti somatici il corpo in cui abbiamo l'opportunità di vivere questa vita quindi ci hanno dato la vita letteralmente mamma e papà ci hanno trasmesso la vita che poi questo sia avvenuto attraverso un atto d'amore per un atto d'amore che sia avvenuto in maniera serena oppure no che siamo stati desiderati oppure no oppure che ci sono tante persone che sono figlie di uno stupro cioè il fatto che una persona ha violentato un'altra persona ed è nata questa persona che lo sappia o no per cui in ogni caso la vita si è trasmessa attraverso un atto sessuale e ha potuto far sì ci ha dato l'opportunità di venire a vivere questa esperienza umana noi che siamo esseri spirituali anime in cammino e quindi il genitore i genitori i portatori di vita come letteralmente sono che coloro che ci hanno trasmesso la vita è buona cosa ci fa bene ci fa bene essere grati dei loro confronti per il fatto semplicemente che ci hanno trasmesso la vita che poi siano stati dei buoni genitori o no che siano stati presenti o no oppure assenti che abbiano opinioni diverse dalle nostre o che litighino tra di loro o le altre mille possibilità sono considerazioni di un altro carattere psicologico se vogliamo qui stiamo parlando appunto di un ambito sistemico di un ambito costellativo e quindi di un ambito fisiologico biologico una realtà biologica mamma e papà mi hanno trasmesso la vita posso anche non sapere chi sia mio padre o posso non avere contatti con loro ma questo è un fatto biologico quindi devo tenere conto ed è una buona mi fa bene provare gratitudine nei loro confronti per il semplice fatto che mi hanno dato questa opportunità mi hanno trasmesso la vita che a mia volta poi posso eventualmente trasmettere dipende sempre comunque da noi nel senso che aspettarsi che i nostri genitori che il nostro padre nostra madre sia diverso da come egli o ella è è una pia illusione che ci porta soltanto sofferenza ci sono persone che hanno nel loro destino per dire persone fortunate ma in realtà la fortuna non esiste perché il destino che abbiamo di nascere in quella determinata famiglia da quei genitori e non da altri non è frutto del caso appunto non è frutto della fortuna ma è frutto del nostro karma è frutto di quello che noi abbiamo costruito nelle vite precedenti quindi se guardiamo le cose esclusivamente da un punto di vista costellativo direi ancestrale insomma biologico quindi sistemico certo quelli sono i nostri genitori lo saranno comunque sempre perché anche quando loro moriranno loro saranno sempre mio padre e mia madre io ho sempre il loro figlio fin tanto che sono vivo in questa vita come fin tanto che i miei figli anche quando morirò io sarò sempre il loro padre la mia compagna la loro madre per esempio e questo da un punto di vista esclusivamente sistemico però dobbiamo tenere conto ampliando la visione che è appunto quella che porto col lavoro delle costellazioni rituali che un'anima cioè noi non è che nasciamo a caso da quei genitori ma quei genitori li attiriamo a noi alcuni dicono li scegliamo e qui diciamo che sia li scegliamo sia che vengono scelti per noi dall'universo dallo spirito proprio perché abbiamo bisogno di fare quel tipo di esperienza in questa vita spesso dolorosa perché è proprio attraverso il dolore attraverso le difficoltà che cresciamo e non attraverso le comodità e quindi dipende da noi io posso ci sono persone che per dire nascono in una famiglia tra virgolette del munino bianco intuì tutto sembra perfetto e un giorno succede un qualche cosa di molto piccolo di poco conto che però determina in loro un trauma delle emozioni che queste persone non riescono a risolvere e sembra che questo trauma sia gigantesco e gli impedisca di vivere rimangono attaccate quindi alla rabbia contro papà contro mamma alle recriminazioni ma tu non hai fatto questo non hai detto quello eri assente non c'eri eccetera e quindi facendo così queste persone spostano l'attenzione da dentro di sé a fuori di sé attribuendo ai loro genitori la responsabilità della loro vita della loro felicità e quindi in questo continuano a soffrire e trasmetteranno quella sofferenza ai loro eventuali figli mentre invece ci sono persone che hanno subito dai genitori o dalla situazione di vita delle cose terribili sono state in guerra i genitori li hanno abbandonati a un orfanotrofio sono state abusati dai genitori o da uno di loro o i genitori hanno permesso che subissero degli abusi da uno zio o da altre persone per fare degli esempi e avendo lavorato su di sé avendo fatto costellazioni avendo così motivati dalla voglia di essere felici dalla voglia di esserci dalla voglia di vivere la propria vita di migliorarsi queste persone non subiscono più l'influsso di mamma di papà e degli eventi tragici e drammatici della loro infanzia si potrebbe dire li hanno perdonati quasi in realtà non è proprio così hanno accettato il loro destino hanno accettato il passato perché il passato non si può cambiare che lo vogliamo o no diceva forse San Francesco attribuita a lui questa frase aiutami a discernere tra ciò che posso cambiare e ciò che non posso cambiare aiutami ad accettare ciò che non posso cambiare e quindi gli altri noi non possiamo cambiare gli altri non possiamo cambiare il passato perché il passato è già accaduto e invece aiutami a concentrarmi a portare la mia energia la mia attenzione su ciò che io posso cambiare che cosa posso cambiare posso cambiare me stesso posso cambiare esclusivamente me stesso e non gli altri non posso cambiare i miei genitori non posso cambiare il partner posso cambiare me stesso e cambiando me stesso tante volte anche il partner anche i genitori cambiano non è detto che sia così ma perlomeno devono prendere atto del fatto che io sono cambiato che ho un atteggiamento diverso anche nei loro confronti perché come dico spesso facciamo tutto da soli è molto più facile puntare il dito contro qualcun altro e dire tu papà non hai fatto questo mamma non hai fatto questa mi hai detto questo oppure col partner oppure coi figli eccetera eccetera e quindi per estensione col datore di lavoro col denaro con la vita con gli altri con le relazioni molto facile però in India dicono che se io punto un dito verso qualcuno ci sono altre tre dita che puntano verso di me e per cui la realtà che appunto queste sono delle verità sono delle parole che si possono dire ma nelle costellazioni rituali si può fare esperienza di queste cose la realtà è che non possiamo cambiare gli altri possiamo solo cambiare noi stessi quindi se io mi metto nell'ottica di prendermi le mie responsabilità della mia vita delle mie emozioni dei miei pensieri del mio destino e lascio ai genitori le loro il risultato attraverso un percorso terapeutico è quello di pace è quello di libertà io mi libero del destino dei miei genitori mi libero del destino della mia famiglia e sono io a prendere in mano le redini della mia vita tutto il bene tutto il male e a decidere per me e quindi sono libero in questo senso dal karma familiare man mano che mi 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 rivolgo verso l'interno e con l'aiuto di qualcuno che si affianca a me conduttore facilitatore faccio questi passi con l'aiuto dico perché non è possibile fare questo da soli le resistenze che abbiamo dentro di noi sono tali e tante e così forti che insomma da soli è veramente impossibile abbiamo tutti bisogno di chiedere aiuto a qualcuno e quindi in questo senso le costellazioni rituali si trasformano in una vera e propria via iniziatica in cui vado a prendere il mio destino vado verso il mio destino meglio e mi lascio alle spalle il karma del passato o tutto quello che mi ha portato magari da quei genitori a vivere quegli eventi talvolta drammatici e traumatici e ora Marco volevo chiederti questo cioè un'esperienza quella delle costellazioni che tu consiglieresti anche non avendo problemi come esperienza assolutamente sì perché anzi è un'occasione veramente un'opportunità grande di poter fare esperienza di come siamo fatti non è necessario avere un problema avere una malattia o una dramma nella propria vita per lavorare con le costellazioni si può venire innanzitutto anche solo a vedere come cosa succede come spettatori insomma si siede lì non si dice nulla se si viene scelti come rappresentanti si può anche dire di no nessuno obbliga nessuno a fare nulla e soltanto stare in sala soltanto stare in quella sala in cui vengono fatte le costellazioni in cui si manifestano una determinata energia e quindi soltanto quello è un lavoro interiore molto forte spesso che dà l'opportunità ci si apre proprio un mondo ci si aprono proprio delle visioni di come è la realtà nei fatti e non quello che pensavi che fosse quindi già questo è un'esperienza spesso che cambia la vita e lo dico non voglio dire vantandomi di questa cosa perché non sono io che lo faccio io la facilito soltanto sono forze molto più grandi di noi che fanno tutto questo si può anche cioè si può fare una costellazione portando un obiettivo un intento da raggiungere quindi vorrei non so cambiare lavoro per dire vorrei scoprire entrare maggiormente in contatto con la mia anima con il mio spirito vorrei entrare in contatto con determinate forze spirituali vorrei capire come mai non riesco a meditare per dire quindi portare si possono portare dei temi degli obiettivi prettamente spirituali o di sviluppo della professione di sviluppo di qualsiasi voglio imparare a suonare uno strumento per dire e allora attraverso le costellazioni si viene aiutati a sviluppare quei talenti o sviluppare quelle capacità o si entra in contatto fattivo concreto attraverso il corpo con quell'obiettivo che abbiamo posto quindi è assolutamente qualcosa che consiglio a me ha cambiato completamente la vita e non sarei qui su questa sedia a parlare a voi in questo momento con te Fabio se non avessi affrontato i traumi del passato che venivano dalla mia famiglia di origine delle mie vite precedenti e non stessi continuando a farlo perché non è che sono arrivato e ancora mi sono realizzato l'obiettivo ultimo ovviamente è quello di almeno per quanto mi riguarda di realizzare il sé quindi sono su un cammino spirituale non una spiritualità che aiuta a fuggire dalla realtà una spiritualità di comodo che come dire che consolatoria no? non è anche una spiritualità di andare a vivere sulla cima di una montagna e di fare l'eremita ma una spiritualità concreta che aiuta a vivere meglio la vita nel concreto pagando le bollette andando pagando l'autostrada affrontando le varie difficoltà della vita ma è proprio questo che è la vera spiritualità le altre sono fuffa io ora voglio raccontarti non so se l'ho fatto già in altre trasmissioni perché ormai non ricordo ma anni fa ho voluto provare una costellazione però di tipo individuale perché uno degli ospiti fissi delle nostre trasmissioni mi aveva tanto parlato di una giovane ricercatrice spirituale dalle grandi doti e quindi soprattutto per curiosità sono voluto senza avere poi una domanda particolare forse era sul lavoro che all'epoca insomma ero abbastanza insoddisfatto e quindi ci andai più che altro per sapere se c'era qualcosa che bloccava questo settore ricordo che appunto entrammo in una stanza eravamo seduti sul divano poi a un certo punto mi ha fatto mettere dei fogli per terra con scritto sopra mamma papà e poi se non ricordo bene anche il luogo dove lavoravo all'epoca e mi fa soffermare sopra cioè come fosse un percorso e quindi si partiva non ricordo se era dalla mamma poi il luogo del lavoro e quindi il padre qui dobbiamo aprire una piccola parentesi senza entrare nel dettaglio i miei genitori sono separati dalla nascita quindi io ho visto mio padre tipo una volta al mese comunque ho avuto con lui un ottimo legame chiaramente compatibilmente con i tempi fino che ero bambino poi nella parte adolescenziale insomma è venuto fuori come penso per tutti qualche dissidio qualche forte diversità caratteriale ecco oggi diciamo che c'è un rapporto che io tendo comunque a mantenere anche se a distanza l'unico momento diciamo così che mi porto dietro probabilmente dal passato non è tanto l'assenza durante l'anno quindi non ho mai perché molti come tanti figli di divorziati ti chiedono sempre ma non ti manca io devo dire che non ho provato questa mancanza durante l'anno ho provato nel momento del distacco cioè dopo due tre giorni abituato a stare solo con lui ritornare poi alla vita di questo sì lo sento ancora oggi tipo finisce la vacanza finisce un qualcosa secondo me si riproietta questa situazione però ecco non ho un dolore consapevole di questo trascorso cosa è successo tornando alla costellazione che io ero un po' come dire perplesso di quello che stavo vedendo siccome ho anche un carattere abbastanza scherzoso avevo paura quasi che mi venisse una risarella quindi che facevo una brutta figura con questa ricercatrice e quindi passo sopra la mamma non succede niente sul luogo di lavoro non succede niente quando vado sopra il cartello che ho scritto padre ho avuto paura veramente che mi scoppiassi a ridere invece non era una risata senza alcuna emozione sento venire giù su dallo stomaco dalla pancia come un qualcosa che viene su che diventano delle lacrime però non era un pianto erano delle lacrime sostanzialmente senza emozione lei mi pare che mi disse in quella situazione che in qualche modo dovevo sentire la presenza del padre sulla spalla mi disse una cosa del genere dovevo dirgli tipo delle frasi tipo ti voglio bene oppure sento la tua presenza una cosa del genere poi dopo questo episodio non è che sia successo niente almeno a livello conscio niente di particolare ecco non ricordo né dei cambiamenti successivi certo questa esperienza mi colpì perché non c'era nulla che facesse pesagire che arrivassero queste lacrime senza perché sai un pianto uno prova dolore prova comunque una forte emozione lacrime così neutre ecco questa cosa mi colpì quindi ti chiedo una possibile interpretazione una possibile spiegazione magari è un'esperienza che hanno vissuto anche altri ma per poter rispondere appieno dovremmo entrare nello specifico e magari non è questa la sede in ogni caso devi tenere presente che il lavoro e il denaro sono direttamente collegati alla figura del padre così come la vita e il cibo sono collegati alla figura della madre questo non perché qualcuno abbia deciso così ma proprio perché siamo stati programmati in questa maniera i nostri corpi da milioni di anni già i nostri antenati remoti gli uomini sapiens e anche gli uomini di neandertal insomma decine centinaia di migliaia di anni fa per innumerevoli generazioni le madri si sono occupate del focolare domestico della casa o della caverna allora di preparare il cibo di stare quindi verso il dentro e quindi le donne per loro costituzione fisica hanno ereditato questi talenti e queste capacità che le femmine appunto hanno sviluppato di avere a che fare con il cibo e di sviluppare talenti più interiori più psicologici più le donne sono naturalmente portate maggiormente a comprendere la psicologia degli altri sono più empatiche sono più sensibili per loro natura poi ci sono anche uomini che sono così però è una caratteristica prettamente femminile che ci viene da innumerevoli generazioni in questo modo mentre invece gli uomini il maschile il maschio è sempre stato più proiettato verso l'esterno quindi mantenati remoti gli uomini andavano a caccia o andavano in guerra quindi la difesa del territorio la difesa del focolare domestico della caverna della capanna quello che è e il procacciare il cibo quindi andare a caccia e portarlo alle donne nella famiglia quindi gli uomini sono biologicamente programmati di più verso l'esterno verso procacciare il cibo verso la difesa del territorio e quindi la madre è collegata al cibo e alla vita perché trasmette la stessa la vita partorendo il figlio e il padre è collegato a procacciare il cibo e quindi in epoca moderna al lavoro e al denaro e al mondo esterno tanto è vero che lo dice anche Steiner lo dicono anche altre tradizioni il padre ha proprio il compito di estrarre il figlio dall'utero materno mentre nasce e di presentarlo agli dèi al mondo all'universo il padre ha il compito di presentare al figlio come è fatto il mondo e quindi alla società insomma qui il padre quando c'è un problema di lavoro come quello che magari avevi tu al momento o una difficoltà in quell'epoca tendenzialmente questo si scopre essere vero che ha a che fare con il padre e quindi quello che è accaduto in te in quel momento in quella sessione individuale con quella tecnica dei fogli è emerso un qualche cosa che possiamo definire come un blocco interiore magari collegato a papà e che ha potuto sciogliersi perché è emerso dalla pancia dal profondo è venuto su delle lacrime e quindi si è liberata un'energia compressa o chiusa che magari avevi chiuso tu rispetto a papà e in quel modo semplicemente salendo sul foglio del padre entrando in risonanza con papà questa cosa si è potuta sciogliere si è potuta liberare ovviamente non è magari la totalità delle cose che si potrebbero fare però è stato comunque qualcosa che ti ha colpito e che ha determinato un liberarsi di energia chiamiamolo così che è assolutamente poi possiamo non ero lì in quel momento a fare questo lavoro perché era di questa operatrice eccetera però questo te lo posso dire per certo per cui mi sembra una buona cosa quella che è successa e tra l'altro ti ha colpito ovviamente approcciandosi così per curiosità a queste cose è meno è meno da meno che invece apprendersi alla possibilità che magari queste cose siano proprio efficaci magari allora era così magari la cosa che ti invito a fare Fabio è di partecipare a un incontro di gruppo perché è proprio uno dei bonus anche del lavoro di gruppo è proprio il fatto che ci sono persone che sono dei perfetti sconosciuti che tu metti in scena invece che dei fogli e queste persone ti rimandano delle cose che tante volte che è esattamente quello che diceva tuo padre tua madre o sembrano sapere delle cose che invece tu sai e loro non possono sapere ma per risonanza queste cose emergono e quindi allora questo facilita diciamo il fatto di dire beh allora questo strumento deve essere qualcosa di reale qualcosa di concreto questo fa veramente molta differenza proprio nell'aprirsi a questo tipo di strumento e quindi nell'aprirsi a una visione più ampia della realtà diciamo così questo per rispondere proprio brevemente a quello che mi ha riposto grazie grazie della risposta chiudiamo sull'aspetto del conduttore tornando alla serie la figura di Zaman sembra con le sue domande precise che fa alle protagoniste sembra anche qui uso il termine intercettare come fosse quasi un medium uno sciamano cioè per fare questi incontri deve avere queste doti di sensitività perché fa delle domande alle protagoniste se ad esempio nelle loro famiglie di origine ci sono state morti improvvisi omicidi e via dicendo episodi quindi che riguardano magari gli avi delle protagoniste quindi come fa a fare questo tipo di domande ti chiedo quindi se è una semplificazione della serie oppure capita anche a te come conduttore di costellazioni di percepire questo tipo di quesiti e quindi di rivolgerli alle persone che partecipano ai tuoi gruppi succede assolutamente tutte le volte o quasi tutte le volte per poter fare il costellatore e condurre questi gruppi ovviamente bisogna avere delle capacità dei talenti che non si sviluppano dall'oggi al domani ma che sono il frutto di tutto un cammino un percorso poi e quello la serie è veramente fatta molto bene proprio perché illustra anche questi aspetti illustra anche ad esempio tutta questa crisi di Adà della protagonista principale che inizialmente è contro viene da una mentalità molto rigida molto scientifica nel senso peggiorativo del termine e quindi è contro questo tipo di cose ma ci va soltanto per aiutare l'amica e poi pian piano emergono dei suoi fatti personali succedono anche dei drammi tra lei e il marito insomma e quindi ha tutto un percorso viene tutto sviluppato e si vede molto bene nella serie tutto un percorso di crescita interiore che la porta infine nell'ultima puntata a insomma aprirsi molto di più non diciamo altro per chi non ha visto la serie per cui è fatta molto bene la serie e compreso anche questo aspetto di Zaman del conduttore che fa queste domande precise come se sapesse o avesse intuito o visto delle cose che il protagonista il cliente in quel momento non vede questo in realtà è proprio il ruolo del facilitatore del costellatore quello di avere una visione più ampia e quindi vedere un po' più in là di quanto il proprio cliente veda e quindi poterlo guidare nel scoprire da sé quegli aspetti che condizionano la sua vita quindi da una parte il conduttore osservando quello che c'è in scena osservando tanti piccoli dettagli della persona eccetera intuisce delle cose che gli danno delle informazioni e questo è quello che insegno insieme a mia moglie nei nostri corsi di formazione alle persone e però c'è tutto un altro aspetto molto più importante e che sono le connessioni spirituali che il costellatore ha e che lo aiutano in questo lavoro ci sono anche costellatori così che possono anche essere atei voglio dire che non hanno alcuna esperienza spirituale psicologi medici ma anche insomma operatori olistici che in realtà non hanno alcuna connessione spirituale ma questo lavoro funziona lo stesso proprio perché ci sono forze più grandi che loro non se ne rendono conto ma intervengono e fanno delle cose più invece il costellatore è cosciente di sé più ha realizzato se stesso più è felice più ha aperto il proprio cuore più ha sviluppato i propri corpi sottili più ha in contatto con la realtà quindi la realtà anche spirituale i mondi spirituali e quindi riceve informazioni entra in connessione con quei mondi vive in realtà se non è un ipocrita in connessione con quei mondi costantemente in maniera molto semplice non è che c'è bisogno di abbigliarsi con le penne in testa o di 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 fare certi gesti o di dire certe parole è una realtà concreta una realtà del cuore come sempre non è tanto importante imparare delle tecniche importante è aprire il proprio cuore importante è esserci importante è vivere la propria verità e allora in questo modo le proprie parole hanno una forza specifica differente da quelle invece di chi ha soltanto letto dei libri quindi è vero che il costellatore è una figura assimilabile per certi versi al medium o allo sciamano però il medium non mi piace molto perché la medianità è un'altra cosa non ha nulla a che vedere con le costellazioni perlomeno come le faccio io perché con la medianità si entra in contatto con delle larve con i residui di 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 esseri umani che sono deceduti e quindi è molto più vicina alla stregoneria la medianità e anche molte forme di sciamanismo sono stregonerie in realtà sono medianità il lavoro che faccio invece è un lavoro di consapevolezza è un lavoro che ha lo scopo di aiutare le persone a diventare maggiormente se stesse è uno scopo di realizzare il sé quindi è una via spirituale dipende il costellatore da chi è e quali esperienze ha fatto qual è il suo passato quali talenti ha sviluppato e quali sono i punti di riferimento spirituali perché la cosa più importante che io faccio nel mio lavoro è aiutare le persone a ristabilire una connessione col divino questa è la cosa più importante poi tutto il resto comprese le condizioni di vita le relazioni il denaro viene come effetto di questo cioè ristabilendo il contatto col divino un contatto concreto tutto il resto viene di conseguenza una parola ancora su quello che stavo dicendo prima c'è un aneddoto molto significativo che riguarda il Mahatma Gandhi viene narrato in India di solito questo si narra che appunto un giorno una donna portò da Gandhi suo figlio che aveva nove anni e era diabetico e non riusciva a smettere di mangiare zucchero e dolci e allora la donna portò dal Mahatma questo figlio e dice Mahatma puoi dire qualcosa a mio figlio puoi dirgli di smettere di mangiare zucchero e allora il Mahatma le disse Gandhi le disse torna tra un mese e allora la donna se ne andò in India sapete quando un maestro parla si fa quello che dice non è che si sta lì a discutere proprio perché si sa la gente è dentro un sistema per cui sa che è connesso spiritualmente sta parlando con qualcuno che vede più in là non con un altro essere che ha opinioni differenti comunque la donna se ne andò e ritornò dopo un mese un mese dopo riportò il figlio a quel punto Gandhi disse al figlio quello che voleva dirgli e il figlio smise di mangiare zucchero e dolci allora un assistente di Gandhi disse alla donna ma come mai non hai guarito il figlio subito perché l'hai mandata via e l'hai fatto aspettare un mese e allora Gandhi disse beh perché dovevo prima smettere io di mangiare zucchero cioè questo ci insegna a comprendere che le parole che una persona dice hanno forza quando sono frutto dell'esperienza cioè se Gandhi avesse detto di smettere di mangiare zucchero al bambino mangiandolo egli stesso sarebbe stato un ipocrita e le sue parole non avrebbero avuto l'efficacia che invece hanno avuto quando lui ha fatto questa esperienza e quindi ha potuto tra virgolette guarire o contribuire a far sì che far sì che il bambino lo smettessi di mangiare i dolci e quindi il costellatore allo stesso modo ma anche il terapeuta ma anche il professore ma anche chiunque abbia un ruolo di responsabilità che ha a che fare con la salute e il benessere degli altri se parla da uno spazio di verità come dicono in America se cammina le proprie parole come dico i nativi camminare le proprie parole cioè essere quello che io sto dicendo allora fa sì che la mia voce abbia una determinata forza se invece io mi metto a insegnare agli altri come dovrebbero vivere mi metto a aiutare gli altri non so le donne che hanno subito abusi e poi vado a casa mia e picchio mia moglie evidentemente sono un'ipocrita le mie parole non avranno forza e non sto lavorando nella luce ma sto servendo qualcos'altro che luce non è quindi è molto importante da parte del costellatore ma non solo da parte del terapeuta da parte di chi ha a che fare col benessere e la salute delle persone essere coerente con se stesso vivere la propria verità e da questa verità allora può aiutare gli altri se invece lo fa soltanto per guadagnare del denaro per avere così una fascinazione sugli altri evidentemente le forze che sono con lui sono forze non luminose e che invece portano altra oscurità e fanno dei danni alle persone come vedo molto purtroppo anche nel campo delle costellazioni Marco è stata una puntata penso molto intensa nei link trovate chiaramente i tuoi riferimenti i libri tra cui c'è quello proprio sulle costellazioni rituali potete scriverci a redazione chiocciolaborderness.it se avete ulteriori domande o temi da approfondire noi Marco ci rivediamo a dicembre per un'altra puntata grazie Fabio di questa opportunità e un saluto a tutti gli ascoltatori